Questa è la mia città. Mi sono trasferita qui per studiare teatro e non me ne sono mai andata. È una città che si trasforma in fretta, che cambia ogni giorno. E tu con lei. Questa è la mia nuova casa. E lui è Luca. Un talento per costruire e aggiustare le cose. Gli riesce tutto in un modo naturale. Appena un po' di tempo libero mi piace passarlo nel nostro nuovo appartamento. C'è sempre qualcosa da fare. Chiara pensa all'arredamento e in questo è sicuramente più brava di me. Io faccio tutto il resto. Io volevo un top ingress porcellanato. E quando ho visto i top sapienstone ho capito che qui avrei trovato proprio quello che cercavo. Però volevo che anche Luca fosse convinto. Lui è un ingegnere, uno di quelli precisi. E volevo che il nostro nuovo piano cucina soddisfasse anche le sue esigenze. In showroom ci sono queste lastre enormi che puoi scorrere e toccare. Ci hanno fatto vedere il taglio dei bordi, i progetti della nostra nuova cucina. Noi abbiamo scelto un top che sembra metallo ossidato. Poi ci hanno offerto la visita della fabbrica. E lei era contentissima. Oh, la visita in produzione, no! Guardo Luca, gli brillano gli occhi, sembra un ragazzino. Sì, però quando siamo entrati poi in fabbrica lei era veramente più interessata di me. I top sapienstone sono completamente ecologici. Tutto nasce da una miscela di 13 materie prime selezionate. Sono minerali naturali che vengono mescolati con dell'acqua e poi passati in essicatoi per togliere l'umidità. Da lì si va in produzione dove delle enormi presse formano i top, che verranno poi cotti in un forno a 1250 gradi. Tu cammini in questi capannoni enormi dove addirittura gli operai si muovono in bicicletta. Ma un'altra cosa molto interessante è che dentro c'è un laboratorio intero proprio per il taglio delle lastre. Ci hanno spiegato che serve per testare i prodotti e quindi per andare incontro a tutte le richieste di un cliente. Io non sono un grande chef, però mi piace cucinare e quando lo faccio mi piace poter essere libero di pensare a quello che sto facendo e al cibo. Oggi non gli serve nemmeno più un tagliere. Con il nostro nuovo piano cucina non serve più. Il piano Sapienston è certificato per stare a contatto con gli altri. È di un materiale resistente e facile da pulire. Oggi io e Chiara abbiamo due vite molto veloci e impegnative e passiamo sempre meno tempo insieme, però la sera quando torniamo a casa in cucina riusciamo a parlare e a rilassarci. È un momento di intimità. È importante stare bene in cucina.